Ah, io ve lo dico che in questo video parte un video sfogo di quelli madornali, ma ve lo dico, ma ve lo dico. E io ci tengo a dire che non vi sto dicendo non supportate voi stessi per supportare me. Ascoltate il discorso fino alla fine prima, perché io so già che voi siete idioti e commentate subito Ah, vuoi perché, vuoi che io non supporti me? Così io non guadagnerò niente e guadagnerei tu. Bimbo deficiente, aspetta che io finisca, Dio. Sapone che non sei altro, Dio. Lavati con il tuo stesso sapone. E vi dico anche che la settimana prossima esce un bel video di sesso, quindi attenzione. E voi lo sapete bene che se non vi iscrivete al canale attivando la campanella e non supportate OptiPefine lo shop Fa risverare la notte da voi a farvi vedere, sapete cosa? Un bel glitch per i V-Bucks. Quindi sarebbe meglio fare le cose che ho detto. Allora, io ve lo dico già che la sessione commenti di questo video sarà proprio uno zoo di bambini sapone. Ve lo dico già, ma ci saranno proprio i bimbi minchia sapone indignati, ve lo assicuro. Ah, ve lo dico già, sarà proprio una pozza di bimbi minchia questo video, ve lo dico già. L'opulenza è un peccato che paghiamo tutti. Questa è una frase celebre di uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto che è Black Ops 2. L'opulenza è l'avidità. Ma Opti, ma di cosa stai parlando? Ma sembri uno scemo? Cosa stai dicendo? Di cosa parliamo? Ve lo dico io. Parliamo di tutta quella fascia di età che va dai 9 anni ai 15 anni, 16 anni, dove la gente vuole guadagnare perché non ha modi per guadagnare. Quindi fa di tutto per guadagnare, ma fa cose stupide per guadagnare. E in questo video io mi voglio lamentare di due cose principali. Quelli che usano il proprio codice supporto a un creatore e poi delle determinate app di cui parleremo un attimo più in là. Ma partiamo dalla prima cosa. Chi usa il proprio codice supporto a un creatore? Ma siete coglioni! Un attimo di pazienza e di calma. Allora, come funziona il supporto a un creatore? Tu sei un creatore di contenuti di Fortnite, crei contenuto, hai tanti supporters, questi supporters shoppano col tuo codice, tu guadagni 5 dollari ogni 100 dollari shoppati dai tuoi supportatori. Quindi se ragazzi, voi che usate il mio codice, shoppate una skin da 2000 V-Bucks, io guadagno un dollaro. A questo dollaro poi dovrò pagarci le tasse alla conversione in euro, però l'importante è dire che lordamente si guadagna un dollaro molto bene. Ora, la Epic Games non è stupida e adesso ha dato il supporto a un creatore, praticamente a cani e porci. Quando il supporto a un creatore è stata inserita all'interno del gioco, questa funzione, era molto difficile ottenerlo, molto difficile. Bisognava fare le visual, bisognava proprio essere un creatore bello, bello, bravo di Fortnite. Col tempo hanno iniziato a darlo tutti e io vi spiego anche perché. Perché volevano sfruttare l'opulenza dei bambini, quelli che vogliono guadagnare, come dicevo prima, ma che non leggono. Perché, ragazzi, nella vita bisogna leggere, bisogna leggere le condizioni, i termini. E io vi voglio spiegare perché supportare voi stessi non ha senso. Ci saranno alcune volte in cui ha senso, ci saranno altre volte in cui non ha senso. E io ci tengo a dire che non vi sto dicendo non supportate voi stessi per supportare me. Ascoltate il discorso fino alla fine, prima, perché io so già che voi siete idioti e commentate subito. Ah, vuoi perché, vuoi che io non supporti me? Così io non guadagnerò niente e guadagnerei tu. Bimbo deficiente, aspetta che io finisca, Dio. Sapone che non sei altro, Dio. Lavati con il tuo stesso sapone. Allora, supporto a un creatore, stavo dicendo, che è stato dato a tutti ormai. Perché la Epic sfrutta l'opulenza dei bambini che non leggono. Perché la Epic non è che te lo spiega in maniera semplice. Purtroppo gran parte della gente non lo sa che su supporto a un creatore non vieni pagato finché non raggiungi la soglia minima dei 100 dollari. Ora ragazzi, voi lo sapete cosa significa fare 100 dollari su un supporto a un creatore? Vuol dire che i tuoi supportatori devono spendere 2000 euro in modo che tu ne possa guadagnare 100 di dollari però. Che sono tipo 80-88 euro tipo. Ora, ora, ora. Ci saranno sicuramente qualcuno di voi che ha una bella pagina Instagram, magari tipo di news, di robe, che magari ha parecchi supportatori. E quindi magari loro riescono a fare i loro supporters e di conseguenza anche i loro denari. Perché magari con 3 dollari al giorno, voglio dire, dopo magari 3 mesi, che è tanti, cioè aspettare 3 mesi per fare 100 dollari sicuramente non è un business che uno vuole intraprendere. Però dici, boh vabbè, meglio di niente, no? E io sono d'accordo. Se tu hai una pagina che ti fa fare magari 3 dollari al giorno da supporto a un creatore, sono d'accordissimo con te che ci sta a averlo. Ma io non sono d'accordo con tutti i pro player che si credono pro player idioti, che hanno il loro supporto a un creatore, che lo spammano in giro, pensando che la gente supporterà loro. Quando nessuno è interessato a supportare te, che non sei nessuno. Perché ricordatevi ragazzi che io e voi non siamo nessuno. Noi siamo tutte persone, tutte persone. E mentre certe persone magari hanno sì più seguito, ed è giusto, certe altre non ne hanno. Quindi se tu sei ghost97superpro e non hai una pagina di contenuti seri di Fortnite dove la gente ha un senso di supportarti, quindi magari hai due supporters che sei tu, tua nonna e un tuo amico che hai costretto a supportarti, sei veramente un coglione ad avere il supporto a un creatore. Perché tu 2000€ non li farai mai, perché sei un maledetto opulento del cazzo. Mentre la Epic ci gode, la Epic ci gode perché sa, vi spiego, magari adesso questo bimbo pro player dice Adesso io supporterò me e sarò super ricco, sarò super ricchissimo. Il bimbo a 2000€ spesi per guadagnare 100$ non ci arriverà mai, la Epic lo sa. E quindi tutti i soldi che il bimbo spende col proprio codice sono soldi che la Epic risparmia. Perché se il bimbo usasse il codice di un vero creator che ha veramente tanti supporters e che viene pagato ogni mese perché supera la soglia dei 100 ogni mese, allora lì la Epic deve versare i soldi. Quindi chiaramente la Epic cosa ha fatto? Ha detto, no, aspetta un attimo, no, non mi conviene, non mi conviene, no, non mi conviene. Mi conviene di più dare il supporto a un creatore a tutti, che tanto nessuno di questi tutti avrà mai la soglia dei 100 perché ognuno supporterà se stesso da quanto sono opulenti e avidi e nessuno supporterà nessuno altro tranne quelli intelligenti, chiaramente. E quindi la Epic sono tutti soldi che non dovrà mai versarvi perché ve lo dico, voglio distruggervi le aspettative e non arriverete mai a far spendere 2000. Ripeto, ci sarà qualcuno che sicuramente ci arriva perché ha pagine vere di contenuto, ma ci sono i bimbi pro player che invece non ci arriveranno mai. Allora, adesso tutti i bambini vorranno difendersi dicendo Eh! Ma io lo faccio per i server privati! Primo, se sei un bimbo pro player che non ha un cavolo di supportatori, mi chiedo a che cavolo ti servono i server privati, visto che nessuno ti fila di striscio. Poi, ehi tu, desiderai per caso ottenere la rarissima skin glow, wonder o honor? Purtroppo l'Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la glow addirittura a 49 dollari. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te e i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Poi ci sarà gente che dirà, ma per avere i server privati devo avere un bel toto di supportatori. Sì, ma ripeto, ma chi cavolo te li fila i tuoi server privati? Con chi li fai? Con te, tua nonna e zio paperino? Cioè voglio dire, boh, ma sapete da dove mi parte tutta sta incazzatura? Mi parte dal fatto che io vedo gente su Instagram, raga ve lo giuro, che ha 200 followers, ok? 200 followers, che hanno il proprio supporto a un creatore e lo spammano come non so. Vedo gente negli stati Whatsapp, anche i miei abbonati, che mi dispiace per loro, ma vabbè, avranno una mentalità un po' da gallina, negli stati Whatsapp spammano il loro supporto a un creatore. E scrivono, mi raccomando, usatelo. Ma chi vincula di striscio? Ma mi chiedo io. Ma Dio, ma, ma, ma vi rendete conto di quanto siete patetici? Non vinculerà nessuno mai di striscio. Io non vorrei che questo video venisse interpretato come Eh, non supportate voi stessi, supportate me. No, supportate chi cazzo vi pare, ma non voi stessi inutilmente, perché non li farete mai questi soldi, non siate avidi. Supportate qualcuno che apprezzate davvero, che fa dei contenuti che davvero apprezzate, perché a voi questi soldi non arriveranno mai e la Epix li terrà tutti in stasca. Invece, magari, c'è qualche creator che voi guardate ogni giorno i video, perché se siete su questo video vuol dire che guardate i video dei creators. Se siete in questo video, fino a questo punto, vuol dire che guardate i video miei e di qualcun altro. Di conseguenza, se apprezzate il lavoro di qualcuno, supportatelo, non fate gli avidi, non fate i deficienti, perché noi viviamo del vostro supporto comunque. Per noi il nostro lavoro è anche parte del vostro supporto. E voi non guadagnerete mai nulla, nulla da questo programma, ok? Mai! Mentre c'è gente che basa tutto il suo lavoro su supporto a un creatore, perché si sa che YouTube non paga, e quindi magari vuole avere magari tanti supporters proprio perché sa che YouTube non paga. È un po' il discorso di tutte quelle app inutili, dove tu, per esempio, scarichi applicazioni e giochi a dei giochi insulsi, e dopo un mese che scarichi app e giochi e robe, vieni pagato con una gift card da 5. E ora, il dodicenne opulento dice, boia, stonks, perché io, semplicemente giocando app, faccio 5 euro. No! Sei un coglione! Perché se tu, al posto di stare un mese a scaricare app del cazzo, andassi a pulire le scale della vicina Pina e le chiedessi, vicina Pina, posso pulirti le scale in cambio di 5 euro? Fidati che guadagneresti di più in meno tempo, perché la risorsa è più importante nella nostra vita, ragazzi. È il tempo, ok? Non sono i soldi, sono il tempo. È il tempo che dedichiamo alle cose. Quindi stare un mese a scaricare giochetti, a guardare milioni di pubblicità solo per guadagnare quelli là, che poi ti danno indietro quei 5 euro non ha senso! Quei 5 euro di gift card non ha senso! In passato sbagliavo anch'io a fare ste robe e anche a promuoverle, vi dirò. Ma ho sbagliato! Non siate opulenti! Pesate il vostro tempo e supportate chi lo merita e non ha senso supportare voi stessi. Ve lo dico, ve lo dico, non ha senso, non ha senso! E allora ci sarà il bimbo più furbo, quello più sveglio di tutta la famiglia che dirò ma anche tu supporti te stesso! Sì, ma supporta un creatore è parte del mio sostentamento perché io li faccio in un mese più di 100 dollari da supporta un creatore, capisci? Quindi per me è normale supportare me stesso perché i soldi che io spendo su Fortnite poi mi ritornano al 5%. A te non torneranno mai! Per questo dico, non ha senso supportare te stesso, capisci? Ma sapete qual è anche la cosa bella? Che non posso perdere supporters in questo video! Perché quelli che mi supportavano già saranno ancora più disponibili a supportarmi Invece quelli che non mi supportavano perché supportavano loro stessi continueranno a supportare loro stessi perché sono semplicemente dei coglioni che non capiscono un cazzo È quella che si suol dire una win-win situation per me Grazie a tutti! Grazie a tutti!